Passerella trionfale per il team volley. Dopo la vittoria di sabato scorso a San Mauro Torinese, che ha sancito ufficialmente la promozione in serie B2 delle ragazze di coach Fabrizio Preziosa, è arrivato il momento di festeggiare davanti al proprio pubblico. L'ultima giornata del girone playoff non ha particolari interessi di classifica, ma sarà una valida occasione per brindare e ricevere i meritati applausi dopo aver centrato un obiettivo non scontato e sicuramente storico. Domani sera, al Palasport di Lessona, alle 20.30, il team volley sfiderà le forti torinesi di Chieri. Alla vigilia sarebbe dovuto essere lo scontro finale, la partita che avrebbe deciso la promozione. Invece, un cammino perfetto delle Cossatesi e qualche inciampo di troppo di Chieri hanno reso la partita totalmente fina a se stessa. Sicuramente una festa non può dirsi tale senza una vittoria. Così si era espresso coach Preziosa nell'immediato dopo partita a San Mauro. Abbiamo letteralmente dominato il girone playoff con 4 vittorie su 4, non c'è altro da aggiungere. Se non che ovviamente vogliamo vincere anche l'ultima partita in casa, per festeggiare questa promozione come si deve, con il nostro fantastico pubblico. Aggiunto la centrale Francesca Peruzzo, sabato non vediamo l'ora, festa grande a Lessona. Questo è il degno coronamento di una stagione fantastica. Davanti al proprio pubblico il team volley potrà anche festeggiare la salvezza raggiunta dalle ragazze della Serie D, un gruppo giovanissimo che ha dovuto lottare con il coltello tra i denti anche ai play out per assicurarsi la permanenza nella categoria. Insomma, di motivi per brindare ce ne saranno molti, l'appuntamento è a Lessona.